no come no vergognati luca spadini ma l'ha sento maffin aspettati altissimo sai perché ah non lo so prova non ti sentiamo alice ma non dico io la musica la musica sente quasi nulla spero alzo tutto alzo tutto il mio medico il mio moderatore se cedo nuca disgraziato a posto il link della multistream hai ragione non l'ho trovato aspetta lo cerco non l'ho trovato c'è un moderatore di muffin è d'arco ad arco salve e lo can you please salp luca spadini si tanto salpo si stavo generando il multi twitch thank you è bello che lui pure dieci minuti prima di prepararlo that's what she said illumina il cielo i fuochi d'artificio e razzi di segnalazione possono essere e non mi ha lasciato leggere è niente è la roba nuova però c'è un mercato barco ma è l'originale donni chi non ho capito ben zappo caschi scrive le cose da paxerello no in realtà non lo capisco me lo chiedo tutti i giorni ma è allora comunque se volete voi continuare dopo a giocare fate pure io soltanto dopo un'oretta stacco perché sono cozza stacchiamo anche noi stacchiamo noi corgi un'oretta ecco ok questo è il link del multi twitch dovrebbe funzionare tutto star close eccolo stasera si sireneggia ci sono delle sorprese perché c'è il nuovo update è natale amici non è ancora non è ancora ma ci stiamo adicinando è natale è natale ho detto che è natale ciao mel ciao mel cosa dice lì ci si sente dalla voce che sei un fiore a buone tu non hai idea di che giornata avuto e domani mi danza nel 5 50 ciao psim fi ciao psim fi che ti devi alzare così presto ma dormi noi ha si preso sopra valuto dici cosa questa cosa quella è una coltello a noi la con noi a tenete io li vedo ludi è meglio fidati è molto meglio mi sono ricordato io quando ho aperto sotto o no non lo so aiuto aiuto a luca prova prova aspetta aspetta prova ok non so che microfono ti abbia preso su sotto ma ti ho mutato ok anch'io mutato tutto sì 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 e comunque ragazzi avete visto che si può prendere una seduta prova ad entrare siediti prendi guardati in terza persona con la r abbiamo sblocato un'onorificenza sediti e poi premi r è una scena così triste che mi sto per venire da bianco si lo diamo come c'era diamo aiuto ripremi r ad era scena triste con la faccia che ciao da luca più triste di così non possiamo raggiungere ma noi che stiamo chiedendo un servizio ma fine sai com'è così che funziona però devi aspetta dove sei devi ancora vedere una cosa io sono ancora il solito vecchio ecco 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 il tutto il mio splendore volete di una giojon e ferenza ma non lo dirò anche sono appena detto da solo una cosa carina che hanno messo che è da molto più veloce per prendere i si contro una bellissima cassa di stoccaggio dalla dalla tipa di tipo che quello che ci penso che bella stiamo usando in questo io io la mia la mia la mia e mega fica o la basso solo amici avrò la bacchetta delle missioni sta accadendo it's happening ma la bacchetta delle missioni intanto un attimo che se hai una cassa in mano puoi luttare in automatico le robe dei barili quindi sto facendo un giro per per luttare semplicemente lo sto facendo io grazie mappe del tesoro bocché alle mazzone allora ora puoi finalmente dopo tre anni persino sotto ci si è messo ci si è preso in giro puoi seppellire tesori e cosa ti fa seppellire tesori ti dà una mappa e quelle mappe le puoi appendere e se un altro pirata le prende lui ci cioè ti dà reputazione quindi ora noi cosa andremo a fare andremo a cercare tesori e li seppelliremo in che senso cercare seppellire però noi dobbiamo prendere una mappa no quelle sono mappe messe da altri giocatori quindi si possiamo benissimo prenderne una da qui dammi capire stiamo ribaltando la situazione qui stiamo ribaltando non so piglia tu luca spedini non ho idea credo siamo vicini quindi boh prendo questo le vele spattate di hai messo vario ha fatto con lei la nave giusto perché giustamente questa settimana si può prendere le compense di a te ma noi esatto e ci sono la bella nobile le sbattate anche devo ancora prendere forse quella ricompensa io ho fatto il luoghi di settimana scorsa ho preso tutta la nave spattata mi sono scelta posso devo decorare la nave tuttuale scusa ma le robe di natale non ci sono natale penso che avviva ma penso la settimana di natale ma sì allora avevano postato su twitter un video dove c'era tutta la neve alice del mar e guardate in alto guardate tutti in alto ovunque voi siate si siete sull'isola perché la vena ha preso che sciopo a chiesa eccolo l'update di natale ma ti sembra natale non è natale è questo l'update no 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 ci deve essere no loro mi hanno preso la neve io voglio una neve infatti c'era detto tutto che parlavi intanto stavamo dando i fuochi d'artificio no no cioè ci deve essere una neve ciao artio ma comunque magari magari ciao artio magari ci sono delle isole a nord che sono in avanti abbiamo un caleone davanti porco cazzo di ciao merda merda dammi dei fuochi d'artificio e sta dato secco il diritto davanti a noi si si lo so noi non abbiamo nulla davanti di fuochi d'artificio wait ma su serio si 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 tempo di fargli vedere che siamo amichevoli penso che ci vuole tempo di fargli vedere oh oh cazzo no 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 questo non gira ragazzi no 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 non gira non gira due solo punto tre come un americano che mette le decorazioni a novembre ci siamo tutti suonando qui mettiti anche te a suonare non ti serve a niente a suonare ma ora è rimasto qui a quando come se caccando dai bevi con me bevi con me bevi con me perché mi sentiremo di te che si balla non so come su un po la pastiglia nel chat perché quello è il cane abbiamo appena rubato un cane a vederci questo tutto noi stiamo affondando e questo è il punto è veramente una cosa xd io non do idea di quello che si accadeva dai luca balliamo tanto mette la donna stanno vedendo la donna fondare non ce ne frega niente che dire come dice ma ci stanno aiutando ci stanno aiutando che dice proprio sì è vero io direi che bello partire così vero ma c'è jack guarda che è jack guarda che è carino ma il cane sì gli animali ballano wait prendo anche io il mio uccello wait prendo anche io il mio uccello a quanto pare se bevi con qualcuno a bordo ti da un achievement chi è guarda che è bello il cane la sciglia potremmo benissimo stare un'ora così c'è un pappagallo che vuole ma la loro data mi ha affondata non penso che loro non frighi niente no loro sono qui ma uno è seduto ma che figlio non penso che sei seduto dove l'auto ok ma si è io se trovi spazio metto qua intanto maffi perché te hai rubato il cane te lo sembra ma allora aveva dei tesori allora mi fanno i tesori a se ne sono fregati bellissimo eh you can take out we don't need it anymore ha detto che possiamo prendere il loot io non mi fattere dire di no non so come si scrive mi sa che il loro lo ho dato e l'hanno finita no aiuto no non posso usare l'arpione no sono ubriaco qualcuno deve usare l'arpione ma si vede si vede in chat vocale si è un chat totale si 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 uno è un po' di leggera delle luci eeeh eeeh no hai preso il non volevo questo ha preso il trident ho sparato ha quasi preso uno cioè ora quasi sono ubriaco sto cercando di perdere quelli ja scelto ma codono mi segnalo che non fossi ubriaco ma nei fuochi d'artificio che loro ho preso un'altra roba un altro fridente c'è comunque la cassa di fuochi d'artificio accanto un inizio colpo ma che cosa bella che bello quando ci sono queste cose su sopra no veramente molti tridenti hanno preso che non hanno votato beh una banana giustamente una banana che cazzo sto credendo non riesco ad abbassare qui si ho anche un piccolo tip per te sul nuovo mission port ho messo la map sul repart 5 ciao ce ne andiamo non ho idea di cosa stia dicendo neanche io è una banana seriosamente ma che sta semisistente poi non sono più ubriaco sei più inazio sei più inazio c'è da vando il mappe mi ha detto mi ha detto di seguirlo mi ha detto di seguirlo mi ha detto di seguirlo oooh sì ma quale dove è il cane io penso sì quale ma mi sente? non mi sente forse mi senti? non ti sente non ti sente non ti sente ok ho spallato un gas ho sentito ho sentito Luca Luca perché dietro c'hai il fascino io ho un bando giù ma dove lo danno monkey o le prendiamo tutte che mappa abbiamo ah boh no qualcosa è preso ah boh no qualcosa è preso pensa che questo gatto è migliore che da un gioco il tuo mate è preso il tuo mate è preso questo è questo ah pensate che è preso sto facendo sì o no non lo so aspetta perché non ho idea di quale sia sì ma quale non ti sento cazzo dice che te l'hai presa ha detto che cazzo sta succedendo qui io sto impazzendo aspetta un attimo dov'è che la trovo? dove la trovo? oooh alla tua sinistra ho detto sinistra no ok adesso no stanno guardando la macca no no ok io non so chi sta guardando quella la mia linea in questo momento ma ci segno deve che mi sta andando a due frego questo sta ballando non c'è non c'è no ma non possiamo vederlo il nome tra l'altro no vedi il nome della nave ah perché ma fin da quel cane lo molli ahahah ahahah Luca me lo devi regalare che hai detto? regalo guarda che bello se ne ho sceglie se ne ho sceglie che cazzo mi ha preso se ne ho sceglie non è scopo se ne ho sceglie il mio diritto cosa che hai detto? non lo so 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 chi è che parla davanti? leggete la chat porco di quel no scusate lado si questo 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 e lato giro vinto di oggi di sotto sono solo per seppellire tesori si si che cazzo non so più cosa ne essendo non lo so mappe posizionate sul tavolo di capitano mappe aggiunte a radiale missione ok non ho più idea di cosa sta cosa sta succedendo qui sotto nooo nooo Luca scende e guarda dietro non lo so non lo so non lo so cosa sta succedendo qui cosa si fa? tutti qui sono io non ho più idea io allora devo puttarlo nel table aspetta devo puttarlo nel table ok ok mappe aggiunte al menu ragionale si ok 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 faccio vedere faccio vedere no no non è quella non è quella è questa doveva essere una live doveva essere una live doveva io vado a togliere l'ancore bene vado quindi partiamo sì se loro vogliono venire con noi doveva essere una live proprio esatto che ho passato non so quanto tempo non lo so siamo stati spero dati appena spaventati ducchi e dodo che vogliono venire abbiamo la colonna mappa mi ha regalato le mappe quante volte quante guarda perché io ho sentito io non ho capito che si sente doppio no a tanto sono fatti vai al sud ovest ma fin molle il cane non devo vedere no non ce l'ha strano c'eri scusa io mi giuro ciao martin questa cosa da vedere è una delle cose più ma questa è questa gente io io li amo ragazzi voglio abbracciarli come il mio canale non usci da bocca e questo c'è un tedesco prima germany germany e che cazzo ne so io abbastanza vicino non so tu devi dire il modello di 2006 no a volte tesi credendo che comunque si francesi avuto 2006 avevo capito quel di ora soft vabbè che tu vabbè che tu vabbè io questo canale non lo mollo più vero è tutto avete tutto da dove negli altri ma fino andiamo a berlino ma fino andiamo a berlino ha detto arti a berlino ha detto arti vai tutto a ovest sto parlando color sto cercando di fare amicizia arrivo guido io non arrivo si è stato dac ma capire dei spaghetti quando lì lo coggi ovest ho detto hai detto sud ho detto ovest ha detto sud ho detto sud ovest ho detto sud siamo sistemate le viele perché questa è chiusa spiegatamelo siamo stati dietro alle vele ora va bene tutto ma siamo stati dietro alle vele roba sono usciti comunque no due rimane no no uno è sotto che si sta cambiando ma abbiamo dei topi per chi è chiuso a chiusurto air e normalità ii ho visto ii ho visto il mondo che ha avuto una mia vita come se tu mi sei io io li adoro io voglio andare trovare e probabilmente era il suo allocaveccio il gatto ma fino a sempre un animale in braccio ha detto ovest vedi i psinfimi da ragione bravo si infimi stai sempre simpatico tira giu quella macchia di cosa è appena cagato il gatto si è appena cagato il gatto come io non mi ricordo quale l'agio normale vai 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 io mi so che belli se no ma no che cazzo stiamo non rispetto a questo è shark bait of la l'isola con tanti tipo isolotti concentrici o che la smette scusate cosa è fatta voglio ancora il cane addosso no perché non c'è più io volevo prendere in braccio il maialino che stava con me ma basta maiali qui senti molti prendo in braccio te provaci non si può interagire mi spiace ma basta gli animali mi sono cercato per quell'urlo tutti si stanno cercati per poi non so cosa ho fatto molto stradito l'argomento sì credo che non ci siamo domani o no per il progetto.it lo scato perché fallo o dietro le l'argomento hai visto alla faccia e ora comunque una volta che è un tesoro se te lo prendi lo poggi per terra e ci riusi la pala sopra lo rinizio a seppellire se io ora lo prendo se prendo una pala ho sbagliato tasto destro e pian piano monete monete ok Luca Luca è il filologico del discorso si non voglio ma non ce n'è un altro poi oddio che ho slagato si si c'è altra roba perchè ho sentito oh girati Luca questi sono nuovi allora da quando ci sono i fantasmi? borsa d'oro borsa d'oro borsa d'oro faccio dei jacks ball sto gioco allora uno è qua davanti ah lo vedo ok che merda questo è un bicchiere poi magari la roba la resseppelliamo voglio vedere come si però su un'altra isola voglio proprio un'isola piccola e ci voglio seppellire una marea di roba 8 giga per saper usare la palla in due modi diversi ma anche la resse è presa in tiro che tipo su twitter ha messo o no da qualche parte ho letto tipo tre anni sei mesi il tutto per per riuscire a usare la palla correttamente una roba del genere allora di qua c'è un bad boss ma dove mica sei? spettacolo ti vedo a cercare l'ultimo ok eh ma perché non ci sono ancora i ping in questo gioco e questa è la cosa che mi ha comunque le cose risseppellite le noti perché è un po' diversa la sabbia aiuto mi risento perché ti risento da te mi risento ho ucciso una gallina ina ina avete loot lo portiamo sulla nave va bene ciao buone buonanotte buonanotte ciao buone ah lo vuoi tu? no 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 ho il cosciotto oh no l'anfora l'avete presa? no prendila no prendila 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 ho la coscia di pollo ho la coscia di pollo la cassa di banane la cassa di banane ho la coscia di pollo e prima hai detto banana banana ma la cassa di banane è un vecchissimo eh me? eh me? io stavo per sclerare questo titolo mi sembrava un gatto vestito da capitano all'inizio poi ho realizzato che era uno tutto bene luca senti abbiamo visto abbastanza cani e gatti comunque questo è uno stupro no buono tu raccogli borsa ma no Alice Alice non pensavo che fossi così poca vita l'avevo fatto for fun l'avevo fatto per ridere per scherzare allora Sharkbait come è questo? trova i resti dell'accampamento di pescatori sulla riva sud ovest abbiamo una nuova missione sud ovest qualcosa del pescatino sud ovest qua c'è roba wait c'è una camera vedi ragazzi sono molto sotto ci sono i pesci ci sono i pesci ci sono i pesci ci sono i pesci ma noi dei pesci e pesci ci sono sempre stati dove sei tra l'altro te si ho capito ma mi sono sponati dietro al culo eh? ho fatto quella che la città è gigante se ne so che faccio i pesci non c'è ma ma cazzo ma c'è la sua scisola contenuti i lombriti oceani ah ma quei che ah ma che che va sud ovest sud ovest ma questa è comunque la cosa sud ovest eh dobbiamo trovare i ho finito le munizioni come si chiamano i resti dell'accampamento dei pescatori sulla riva frigo il fatto è che è fortemente enorme che potrebbero essere anche i pesci beh ma no ma sud ovest è uno eh ma è oh si il sud ovest è uno si però siccome non mi fido di sotto controllo anche sta riva infatti è questo probabilmente eh sì era questo ma io non so dove tu sia Luca Spadini comunque eh ho seguito la riva c'è un quadro mhm sono qui io ok ok si ti vedo Muffin eh io vedo Muffin ho visto il nome di Muffin per un attimo sto sparando in alto sto sparando in alto ma guarda questo dove mica è andato a finire ma io le lancio da bomba esplosiva di qua le guarda ma lì si sposta eh eh ah già l'ho preso eh glielo ho detto che lo prendevo ah in testa headshot ma allora che sta andando su è talmente in faccia tipo così guarda così cazzo te l'ho mancato parlano Nord sud ovest est e forse quel che cerco neanche c'è Nord sud ovest est e forse cosa cosa Muffin non ci provare non ci provare non ci provare perché non si d'accorgere non è che vi sto guardando nel senso non è che vi stavo letteralmente guardando cioè parliamone allora tutto a posto non è successo niente guarda sei contento? scusa io non sono contenta sei proprio un coglione allora siamo pari? no hai usato un'arma impropria è stato un bacco di un bacco di vitamico 2 contro l'Uga eh allora è più controllo alla stata dello scalo dello squalo sull'anello esterno oh nooo ragazzi non ho fatto la non ho cotto la gallina ho preso la salmonella tranquilla tranquilla la curo io dove sei? ho appena vomitato sul falò aspetta l'accendo io si veramente è un deficiente però è acceso vedi ma io devo mangiare la gallina ma io Luca abbiamo fogli proprio qualcosa dove su Twitch è bannabile se lo vado a dire nooo la gallina deve cuocersi la gallina deve cuocersi non è che metteranno il crouch su questo gioco in questa live pirata fettosi generosi morti varie Luca che nemmeno Krillin oh 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 che tiro preciso vado a cercare l'unico mai quanto il mio nella tua faccia e il mio era nella faccia di macchina a palombella in quest'anno è successo la valle la vela spattata che è successo? la vela spattata no esatto ci schiantaggio con un caleone gente con la mosca ci hai trattenuto cani 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 ho comunque ho sbloccato la ciment cena sotto le stelle ah hai cotto qualcosa in un falò di nozze ho anche preso fuoco sul falò della quale sto cuocendo la mia gallina ho trovato un'altra mappa pesci bombadamento su luca altro bombadamento su luca altro bombadamento su luca altro bombadamento su luca ragazzi non si cuoce mai la gallina però non è possibile come deve fare hai un po' di seasoning un po' di origano oh il pesce grosso il pesce grosso il pesce grosso io ho sentito hai un po' di seasoning sento sparare che seasoning conosci mappa allora eh è il shot nel cuoricino mettiamo sopra un po' di chiavi ma non si cuoce facciamo un po' piccantino si lasciarlo lì si cuoce si per favore no ma poi si brucia ok si mette una la multistri che è una multistri ah bella infatti mentre io sto praticamente a cercare roba loro stanno qua io sto cercando di non morire di salmonella secondo me io favo una cosa ad Alice Alice tieni quello orco grazie sono molto contenta di ciò perchè luca si sta dando fuoco da solo non mi so ora luca non saprà cosa ho dato mi mando con la loda potrei vedere la tua live too late to apologize sull'anello esterno a sud est tra l'altro cos'è quella cosa rossa del cielo quale la cosa rossa è il capitano flame art guarda fuori si potrà fare una volta è una battaglia navale ti arrivano ondate di navi scheletriche che fantasmano speletriche fino a che non ti arriva flame art è molto difficile soprattutto se non sei un caleone però è fattibile io so sparare ho i fuochi da ma sta cazzo di gallina io so guidare si vede che io so ci metto una mano ogni volta di papa per giocarlo però anche io adesso sto perdendo un po' la mano è stato quando abbiamo di fatto la cosa di jack sparo ha messo nella nostra nave quindi stiamo parlando di mesi mesi fa no 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 ma la molli la cannina la mia la mia chat appena detto io so sparare e ma con luca abbiamo il banco delle prove di luca sparare non vanno collegate le frasi beh non è proprio abbiamo delle prove molto evidenti non puoi dire di no ma amici non è cotta eh è abbastanza da volare tutto ciò è estenuante la cuoci la sua nave mentre ci vogliamo intanto ci sono dei tesori da portare sulla nave mi sto portando me medesima me stessa sulla nave il che è abbastanza grazie a differenza di luca io ho una patente quindi suona quindi no ecco ah sì sì c'ho qualche clip di te che ti butti di sotto nel tuo corpo ah sì ho fatto il clip dove tu letteralmente col veicolo ti sei buttato giù allora la mia gallina contro di te allora facciamo allora va bene luca io la cuocio sulla nave se poi va a fuoco è colpa tua ok grazie intanto io ho trovato un forziere se la nave va a fuoco muore solo il conducente beh guidi te la cuoce la cuoce pacco mettiamo due palle di cannone sui piedi di luca e lo facciamo cadere da ma no ma no la chat è dalla mia parte vero chat che siete bravi la gallina è dalla mia io la cucerò la gallina la chat è dalla mia parte e non tutta la chat no ma forse perché il gioco riconosce che sto cuocendo un cosciotto già addentato forse questo è il problema ah eh sì davvero sì non si cuocerà mai più no che schifo vedete che siamo in questo modo? molto curiosità l'hai mangiucchiato? ti ho detto sì per questo prosa la salmonella magari con una bomba si cuocce prima la gallina sarebbe da provare in effetti adesso vomito? era crudo sapete che ora uno dice eh vabbè dai se li fai in buchi di voce anche dentro eh vabbè dei buchi fa un borso mi sono passaggio dato a voce da dentro un foglio eh Alice eh? vabbè la live è un macello di voci Luca fa il cazzo che vuole nessuno legge la chat e Alice sta tiltando bello siamo tornati al primo anno di questo canale manca solo Marco e Dado ubriachi ma non è vero la leggo la chat allora chat la chat la chat la chat la chat guarda che vai a fuoco anche tu brutto deficiente muoio io muoio tu muoio tu muoio eh vedi? adesso andrò in giro sto andando a fuoco e andrò in giro per la nave andrà tutto a fuoco hai capito? io ho il potere vieni qua Luca dammi un abbraccio io con la coccia o fare ecco la chat dici non fare domande ahahah ho praticamente dato fuoco a Buffett e io ho dato fuoco a te Luca ok io la prendi amici potrebbe probabilmente essere un problema no non lo prenderò no non lo prenderò no non lo prenderò la gallina ma basta la gallina ora al cane una la gallina è ormai l'ho mangiata e ho vomitato ma perché ci sono tre tre denti ragazzi ma fin si sente perché ogni tanto è a volume normale ogni tanto sento come basso ogni tanto c'è l'eco che non so per quale motivo hai presente la nave che c'è venuto addosso tutto il tesoro che avevo tre tre denti cazzo ce l'abbiamo qua tutti glicciati dentro al coso della nave very good bella domanda perché avevo potremmo uno ha detto grazie luca ma con cosa che questo canale non possiamo dire al massimo muoie zappo no ma fa il tuo onore faccio dei fuochi dati che il tuo onore mi suicido dai ti prego di questa non è una c'è del gioco eh te l'ho detto sì sì no ma la cosa bella che li ho anche visti ma rivedendoli è tipo tanto bene allora noi andremo a seppellire tesori che abbiamo credo non lo so ne andiamo no ne andiamo a prendere altri no non è molto brum brum esci melo sì esci il cane che lo piscio ieri ho preso parole eugenio perché transitivava i verbi maledetto romano sì prendere parole nel senso che gli ho detto su cioè nel senso l'ho rimproverato che gli ho detto su cioè nel senso da noi si dice così dire su a qualcuno significa rimproverarlo scusa se sei preciso come dante lighieri ok dico de quindi sì la lingua di dante è morto guess what vai a nord perché ora stato discutendo che sta succedendo in questa live maffin 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 guardami dietro di te non fare domani non chiedertelo tu non devi chiedertelo capito se no succedono cose brutte i senti con in mano una palla non sei molto credibile lo sai così come potrebbe rimanon un uccello quello nulla da dire più strana ma palla maffin maffin a spadoli tienimi occello ma anche tu grazie carino solo l'autorità leccese se mi avrebbe un altro leccese per farla la superiore vita ma non so se c'è il chat dei cocci c'è in questo momento non è pollo ma è maiale alice non è pollo ah siiii che buono oggi ho scherzo quando devo sapere che l'arma si si può fare le cose un po sta andando sott'acqua e ci ha provato hai svegliato tutto il cielo guarda sveglieremo il craco no niente craco per favore è la cosa che non voglio affrontare io girerei un po a sinistra se noi si schiantiamo dobbiamo superare grazie luca spadini ho appena sistemato le vele da sola vado tutto da sola tu mi hai fatto un maiale e poi io mi occupo dei fuochi d'artificio c'è qui stavo facendo mi occupo dei maiali una gallina maciucchiata siamo chiari come le cose magari ecco magari non il cracet almeno la mia vera è stata io ho fatto una partita online ho fatto pubblico su Fio Fils sono entrato in un mare che si aveva affrontato il cracet che cazzo di spuglia beh dai dai una mano è mica tanto è bellissimo che vibra tutto wow che romantico è il marfian vederti con lo sfondo dei fuochi è passato è passato no dico che è quando esplode il fuoco si vibra la nave fico no fatelo mai più pio non so io cosa fare Luca per favore è quello dopo si si io posso fare se non dove stiamo andando c'è un galeone ma sono arrivato tu mattina ss dentro di me c'è un galeone di persone amici ma si può non uspire non cambiano non cambiano più l'ordine entro il dato per tutto quanto il porto l'uccello di luca e abbiamo suonato l'uccello di luca o no ecco l'uccello tutto sport a proposito di tutti i polli i polli basta di amici 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 sono succedenti la domanda è dritto ignorano in ora non ho letto come tira dritto si tiro dritto l'investo ci penso io a loro capiranno il messaggio di pazzo il papagano finale e manco sta dicendo che alice ti faccia il papagano di lì non so perché è dritto non ci sto provando con lui perché ero preso dai fuochi d'artificio tira dritto torneremo dopo era l'unico modo passare e fare fuochi d'artificio ci hanno ignorato vedi e ma c'è solo un problema il la diretta piccola qualcuno ci ha sparato da lontano e vabbè credo abbiano altri problemi quella non è secondo me non è matematica questa cosa dei fuochi d'artificio ma insomma non ci metterei la mano sul fuoco sai come ha funzionato sì o no no perché ci hanno sparato ci hanno colpito ci stanno cagando tre di loro quindi che cazzo ci potevano da noi perché eravamo a favore di vento cosa sto vedendo da voi sono seduto da me ero ancora in piedi no no ragazzi c'è la nebbia artium alice se leggi ho uscito un gallo a zappo in direct don't worry non ci rubo no figurati no 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 ma se vuoi guarda io chi sono io per fermare il mio amore allora alice tutto a sinistra si fa la curva veloce tutto a sinistra il timone dimmi quando ce l'hai ora vai tirata l'ancora muffin con me bisogna ritirarla su velocemente ora vieni muffin su 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 e ora si torna nella mischia si si siamo dritti eh vai perfetto un po' più a sinistra si ragazzi si può capire da che luca ci vuole a pazzo ovvio dobbiamo dobbiamo di seppellire tesori che sono là sopra è un problema e poi ci voglio seppellire tutto il resto voglio sparare anche io dei fuochi artificiali o no sono ci sono nella cassa accanto alla no è sparita la cassa li ho presi tutti e non ne ho presi questo entra dei candore ecco magari giratene bene perché sono io non devo più chiedere e non so dove dobbiamo andare alle navi non ironicamente all'inizio d'accanto alle navi letteralmente ci sta dicendo che di tornare indietro vuole faccia buone vuole farci affondare per poi dire senza di me siete affondati beh avrei ragione beh sì poi li lanciavo la poi faccio arriviamo cosa ho sentito che figata era cosa era il tridente mettilo via prendi che ci mettono come nemici io ci mettono come nemici perché poi mi sento tipo tipo veloce guarda l'uccello di lupo che si è venuto ok gira leggermente a destra o dopo questa roccia ovviamente andiamo sul lato opposto della dell'isola prendo velocemente tesori magari anche mappi mi da una mano pronta a ripartire te allora lo snoop è vuoto ragazzi l'ancora non la trovavo ci sentiamo mi sa ci sentiamo madonna chissà che figura di merda questi due combattono e questo va bene c'è un grosso granchio quanta roba c'è una piccola cosa lasciate a me questi tipi di schianti con la tratta noi ne abbiamo fatti di peggiori abbiamo incastrato la nave sulle insole si vabbè poi era anche giù con l'ancora per cui Luca io ho passato un piccolo piccolo tutto sul terreno io ho passato c'era un forziere per te la troppa è iniziata a muoversi nel dubbio armate cannoni io sono stati sull'oppimismo ma ma anche no ah stanno sparando no è un capitano e stia tirando sull'ancora che cazzo stanno facendo di là hanno iniziato a combattere a quanto pare la sloop è passata accanto al galeone e se ne sta andando ma ho sentito i cannoni quindi credo li abbia sparato si immagina che stiano continuando a litigare aia ah c'è il capitano muore ordini oh ordini stanno sparando fuochi d'artificio comunque il galeone? no la sloop ok vedi la nostra tecnica funziona il galeone si muove no non sta sparando ma sono palle quelle no ci sta cagando ma sta facendo il giro della noccia quindi sta mirando alla sloop siamo sicuri? stavano mirando a me con un cecchino o era un binocolo nel dubbio arrivo sulla nave la roccia no no la roccia l'hanno presa l'ho visto ah fantasia la sloop viene qua eh pronte a tirar giù le vele l'ancora già su l'ancora già su eh avvio vio 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 allora se ci spara uno si butta il mare un esceso giù 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 le vele i wait ok we are friendly wait allora bisogna tirare su tirate su tirate su tirate su ti dà la wait bro wait wait ho un treasure for you mi 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 eh tirate giù la cazzo di ancora amici dio ah thank you ha delle mappe semplicemente thanks eh credevo ci si rallentasse abbastanza con le cose eh no c'è esiste un inerzio ah bye bye thanks thanks ah ho letto nice slut ma va bene allora dice kill me please kill me ah vorrà wait thanks bye bye goodbye goodbye allora io non vorrei dire ma senza prendere un viaggio abbiamo due pagine di mappe quasi una più di una pagina di mappe dobbiamo tornare su quell'isola ora eh le vele sono tutte su vero? sto tornando no no non sono tutte su fermo lì allora aspetta non tirarla del tutto do una mano aspetta ah ok posso 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 ok vai tira su tira su se gira torniamo là e giralo anche tu eh aspetta mi sto tirati gentilissimi secondo me è un dare avere easy peasy perché loro aumentano di reputazione sì loro ci guadagnano tutti gentili c'è ti giocatore eh ogni data la community è bene ogni tanto specifico ogni tanto usato luca cosa cazzo noi fanno perché ti sei sparato? perché ho trovato il tesoro mettiamo una fuga lì lo lasciamo qui ma esistono ancora i pacchi regalo scusami ne ho appena trovato uno pensare che era tipo l'update migliore del eh hanno aggiunto tutta la difesa il lunedio della vita eh tanto quello sloop quel galeone si è stato c'è il galeone che sta matassato è il galeone che è incazzato è il galeone che attacca brive scusami un attimo tipo la sloop è venuta la necessità delle mappe poi torna a litigare col galeone no ma il galeone che fa lo stronzo è perché io ho visto dei fuochi d'articcio ma il galeone prima non li ha attaccati alla slur la slur la slur dobbiamo eh dobbiamo non so parlare amici allora io ora vorrei capire se come si ecco cosa vuoi io vorrei capire come si può andare a dove si va a seppellire tesori scegliete vi dico andiamo su chicken isle se addice a noi è a sud ok io andrei a sud abbassami le lele che ho detto abbassa 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 ok si vanno a seppellire tesori si va a posizionare la mappa in un avamposto e abbiamo finito perché sono le yes quindi vai perché dobbiamo ogni volta andare verso di loro andare lì in mezzo non ho più un fuoco in artificio per dire che siamo friendly l'isola leggermente a destra è il galeone comunque è che rompe i coglioni sono abbastanza sicura di questo può dare che bandiera hanno ha una bandiera a caso vado a mettere la bandiera della pace sopra che mette già fa piangere vedere tutta questa cortesia online si online vedi che vedi che muffin aveva altri ma te li avevi Luca ma ho detto che era giù la scatola questo non mi ascolta no non avevo capito quando mai allora dov'è Alice come vuole il tempo quando si sparano fuochi d'artificio Alice cosa? come vuole il tempo quando si sparano fuochi d'artificio eh si hai visto quando si balla con un'altra gente quando si ragazzi l'ancora si si c'è qualcuno perché c'è un tritore mi sa che l'asco dove va dove va dove è quello è quello lì è quello lì è il nostro amico è il nostro amico stavo per spararli hello 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 allora ora ora noi dobbiamo prendere tutti i tesori portarli sull'isola e seppellirli facciamolo tutti insieme raccoglierò una tassa di zucchero io prenderò Luca che non ascolta quando mai l'ha fatto scusate arti o ma allora 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 me ne segno per quanto riguarda noi da tastiera e tasto destro io con lt quando c'ho il coso quindi io non mi fai dotare un dettaglio prima che mi sto voluto legite che sono io aspetta lì quando lì c'è fa ah no se ne sta andando niente cosa c'è il capitano sarebbe figo ti posso prenderlo lì dove c'è il capitano ma credo di spogli il capitano ma è bello che era fermo lì seduto dire eh niente io sto qui magari io vicino un po' e invece sta dietro sì noi abbiamo ora nelle missioni una con con la X verde cioè con la mappa verde è la nostra missione cioè è quella che noi ora possiamo andare a mettere nella bacheca un po' scappato uno scherzo e lo vado a uccidere è lo primo uccidio capitano grazie vabbè io io aia aia credo che non è dopo le cose poco carine ma io ti credo preso si c'è un pochino però preso preso qua c'è bullismo che mi soppresti quello di dovrebbe aver droppato guarda faccio di spalcare Luca madonna tu c'è le proprie mezze coglioni beh nel senso vado bene capito però scusami non si va dio santo il zappo con il ok posso seppellire l'uccello non è un tesoro chi te lo dice magari è dodo sono validato perché non si seppellisce c'è sono troppo vicino al testo vera chiedo scusa per questo parlato di Luca Spodoni ma lo conoscete meglio di me come qua se non parlo di uccelli una volta live non sono in live cosa cosa zappo cosa sono quelle moto aiuto le palle l'uccello oh no non l'avevo capita e preferivo non capirla le palle l'uccello si l'uccello tra le palle l'ho capita preferivo non capirla io non capirla quando una cosa non si usa no non riesco a vedere dalla chat il nome della ma posso immaginare a cosa si possiamo tipo seppellire i tridoni credo che si la cosa è che ho anche capito cosa intendevi io ho seppellito maffi l'ha seppellito la cassa di stoccaggio c'era tipo tutta la nostra roba molto bene maffi dettagli io ho seppellito una cassa di fuoco d'artificio vuota immaginati chi la trova ma potevi lasciarla sepolta tanto oh dio adesso la mappa si muove fico come si muove la mappa puoi seppellirle la ponte no no zappo non è che mi faccia onore di averlo capito allora dobbiamo concludere una questione che è iniziata prima e che c'entra con Alice c'è la questione di questa cosa di questa questione Alice lascia il volante che devo dati una cosa oh no lo è maciucchiata stavolta siiii ho la gallina tecnicamente sono degli antenati dei dinosauri quindi mi sto dando un dinosauro tecnicamente il dinosauro è vero che cazzo ho detto ma mi ha dato 25 monete sciottine io adesso voglio vedere però è pronta no ma te lo dice non è vero no non te lo dice lo vedi dal colore ecco basta ti parla di Mel Alice ma essendo l'unica persona con il cromosoma XX è arrivata una in classe mia che è tipo è una divinità greca è normale sentirsi un goblin partorito da un ratto perdonate per il messaggio da attention asterisco 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 ma ho bisogno di Mel no io ho sentito per metà cosa ho detto scusami ha chiesto a te essendo l'unica altra persona femmina con il cromosoma XX è normale tipo dopo che è arrivata una dea in classe sua sentirsi tipo un goblin una roba del genere allora per la tua età sì ma non ti preoccupare che poi passa e poi soprattutto non rubarmi la gallina andati via 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 soprattutto Mel ecco vedi Mel non devi preoccuparti delle dee nella tua classe devi preoccuparti degli stronzi che ti rubano il pollo grazie vado verso l'avamposto anzi no vuoi guidare te i muffin così ti schianti te all'avamposto allora per pulizia Alice prepara un cannone buttiamo via l'uccello di l'uno sì dai allora lo facciamo tipo siccome farlo nel cielo è troppo normi lo facciamo giù nelle profondità del mare nuota stronzo lo vado a prendere amici scusa Alice non mi piace il pollo lo scarto sempre quando mangio riso e curry ma come? ma ti è riso e curry non è riso e curry e pollo bene il senso no cioè bel stai tranquilla imparerai che non dovrai confrontarti con nessuno però se te lo dico così poi non mi credi e mi sembra giusto che tu non mi creda è giusto così big brain time eh niente ma posso sedermi da qualche parte? dove bisogna andare? no aspetta dimmi dove bisogna andare beh l'unico a saperlo ero io che sono a mollo puoi ancora parlare? no bevo acqua nord? si sud innanzitutto a sinistra vedi l'avamposto oh oh attenzione ha parlato si prima che tu ti perda come al solito non ho una mappa sai com'è? siete voi quelli della mappa sono io ma se mi buttate giù date via il cartografo poi vi perdete ma abbiamo la stessa età belin? cioè mi fa schifo di come è riuscito ma non ti piace il prosciutto? il prosciutto è buonissimo buonissimo cotto che è crudo ma più buono dritto così dritto no non è vero quella è una fortezza wait io le so le mappe è un pochino più a sinistra è sud est da qui i cavalli i cavalli? i cavalli i cavalli io volevo un cavallo ora non più tutto crudo tanta roba oh si ho conosciuto quello del virus quello che ha lanciato l'unica cosa che ho che potevo lanciare certo eh non non dovi dire me l'ha bianciato impazzita neanche perché sta tirando tavalli appena lo dovi impazzito oppure lo cambi bello possiamo orniboncare se tu ah no aspetta sto tossendo hai dischiato che io dissi questo momento una bestegna no tanto da te c'è una bellissima clip di di final fantasy così no la stavo beppe ma c'è una letta l'avevo completata quella frase l'ho detto col cuore con quella frase si molto ma se faccio così no si io faccio così e muore ho sbagliato ero troppo vicino io l'avrei lasciato buonissimo sì ma no non vuol dire niente e niente e niente e niente la chat è bellissima vede che vede più di pulizia vede più di pulizia ora non sono stato io pensavo di incidere a luca scusa ma vede allora va bene che vede più di pulizia vede più di pulizia vede più di pulizia quando fate vede più di pulizia no ma era complicissima di incidere allora io direi che possiamo va con una scala veste no da noi non c'è vendo il palo io posso bestermine anche la chat ma è poco il che si sta siamo io luca e muffin e gli ecchi delle nostre voci a volte si sentono gli ecchi random tutto rompere doveva truccavo per il telefono per il disco probabilmente può essere un pettoso che cava ma chi è che si vende il bastone non penso che lo possa vendere che palle vede prende un sudente è pronto eh lo sto facendo ma vuoi fare il tiro a bersal comunque si no appunto questa è una live in co-co-well non so avvia allora però nel senso è il multitwitch che non ci siamo per toccare però appunto siamo noi e muffin sì che questo è stato il momento clown per me o andate a vedere il momento clown direi sì allora hanno aggiunto un dipinto di Cthulhu cioè in realtà il Kraken dentro alla taverna ma venite si mette il viaggio il viaggio sì quello che noi abbiamo ora fatto dobbiamo appenderlo non so appendilo appendilo eh ma volevamo ci siamo tu intanto la fai tu l'animazione Luca Spadini cioè non so non so nemmeno se ha un'animazione no l'ho messa infatti non ce l'ha la vedi soltanto tu beh siamo benefattori che bello siamo venuti qua a fare un cazzo vero muffin che bello ma io questo labbra è lì ma io me ne erano perché la nostra la me lo sta prendendo io me ne erano Luca fai i tuoi saluti ciao me ne erano Alicia lo so sì ciao ma c'è il naso che mi sta vedendo una volta amici ciao io devo andare a letto vado a letto ciao amici ciao sì ma tanto noi con ci stacchiamo saliamo tutti da muffin a dirgli clown time aspetta che faccio partire ride andiamo a clown perché c'ho ancora io 20 minuti da fare Luca sì sì tutti i 20 li farei da clown lo sai vero sì sì no come scusa eh eh diciamo vabbè niente noi oggi vi salutiamo andiamo da muffin e appunto diciamo clown time a dire ciao clown time ciao ciao